C'è un momento unico, quando ti trovi davanti a un foglio bianco. E' un momento in cui semplicemente tutto è possibile. Per arrivare a quel momento c'è una storia unica, che inizia tutti i giorni in una piccola città italiana, la città della carta. E' una storia di passione, di sapienze, di impegno. Una storia di persone che ogni giorno mettono tutta la loro esperienza per fare la miglior carta che potresti desiderare. Lo facciamo da secoli e siamo fieri della nostra storia. Oggi continuiamo ad innovare in modo sempre più sostenibile. Usiamo solo cellulosa certificata FSC. Stiamo gradualmente eliminando la plastica dal packaging. Usiamo l'acqua in modo responsabile e la reimmettiamo nell'ambiente pulita e alla giusta temperatura. Ne abbiamo fatta di strada, ma non abbiamo mai perso le nostre radici. Facciamo ancora carta a mano nello stesso modo in cui la facciamo da secoli. Questa è una storia di eccellenti prodotti italiani e delle persone che li fanno. Da una piccola cittadina sulle colline alle città di tutta Italia e del mondo. E quello che era solo una possibilità diventa un'idea. Tutto a un tratto è lì, è reale. Questo sei tu. Questo è Fabriano. Tutto a un tratto è un tratto.